non c'è il cellulare la che c'è un punto dove prende no la volta scorsa non lo hai perso, non lo hai perso, non lo hai perso, non lo hai perso, il vento sta tirandoli là. ora ci casca il materiale proprio qua davanti guardate come tutto il cono diventa rosso là davanti dalla base perché sta avanzando, è andato sempre a scendere ma che roba oh vai che c'è la tenenza fino a 2.9 non bacchia niente ma che c'è un pasto di lava e neve che è fantastico sto riprendendo, l'ipersumato si 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 Antonio ciao Antonio, scusate ma sei arrivato ora? si si, io ho dormito poi invece mi avete racconto hai dormito? io sto ancora dormendo infatti mi sembra un sogno comunque sono alte, guarda che cascono a bombe scusate scusate mamma mia nooo da impazzire però se sei all'alto è al tramonto nooo dappermos la batteria è in animazione ahahahahahahah vuoi dire di che avanza? avanza 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 eh? io ho scattato come ero avverso ciao lì io ero avverso così vero io guardare il spettacolo guardare 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 vedo insomma se allora c'è questo film di nuvola guardare guardare eh sì 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 c'è un altro flusso che sta scendendo ma fry scappa la foto non ti muove ecco eccolo guardare si ora ora esplode là davanti ora ora guardate la a destra meno male che almeno questi flussi si vedono mamma mia le macchie scure ci sono avanti sulla neve sta scendendo sì sono flussi piroclastici questi arrivano bombe sulla neve che sono spettacolo c'è anche della lava a destra forse sì 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 da proprio davanti alla base del cono del sud est queste nuvi ardenti si fanno sempre più avanti mettiamo le macchine di calata guardate che roba stanno vendendo verso di noi pronti a scappare non ci vuole niente a salutare il tuo mondo i cicci si è più pauroso quella nuvolina è sparita eh beh anche per l'ora quando era il cono del 2008 lo sta bombardando ma le bombe che entrano dentro il cono del 2008 il segno è formato ma è spaccato maledetto vento vabbè se questo è l'unico problema ma guardate come viene giù quella roba qualcuno che se ne sta fregando di questa meraviglia ma c'è non è stato forte non è stato forte non è stato forte in questo momento e in questo momento direi che è molto forte è forte perché è duraturo no 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 è forte anche come scusi ma è soprattutto c'è tutta questa ricaduta sul fianco del cono tutto l'insieme è bellissimo no 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 no